Non si fanno differenze di categoria quando i risultati della stagione sono comunque positivi. La soddisfazione di raggiungere i play-off ha lo stesso sapore tra i professionisti ma anche in terza categoria, lì dove è cominciata l'avventura della Virtus Andria, società che ha saputo puntare sui giovani nel vero senso della parola e con loro spingersi sino agli spareggi promozione in questo primo anno. Per questo il bilancio è considerato positivo se a ciò si aggiunge il successo nella categoria giovanissimi del campionato provinciale. Un punto di partenza, a giudizio dei dirigenti della Virtus Andria, per un progetto che vorrebbero allargare per la prossima stagione. Avremmo l'intenzione di allargare questo progetto facendo l'iscrizione al campionato di seconda categoria e aumentando la base per poter formare i nuovi calciatori. Il progetto Virtus è quello di crescere in casa i nostri giocatori per portarli in prima squadra. Ambizioni che devono fare i conti però con qualche difficoltà anche organizzativa. Si chiedono certezze per l'impiantistica sportiva e si auspica l'ingresso di qualche nuovo socio perché a qualunque latitudine i progetti calcistici hanno le stesse criticità seppur in proporzioni diverse. Sarebbe opportuno recuperare il Sant'Angelo dei Ricchi, quindi avremmo bisogno di garanzie per i campi su cui giocare e soprattutto avremmo bisogno di persone che hanno la nostra stessa passione e che abbiano il coraggio di sostenerci sponsorizzando la nostra iniziativa che allargandosi ha bisogno di molti più risorse economiche.